e di cui qua c'è un pezzo importante. Io credo che per andare avanti dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Questa città ha voglia di ripartire, di crescere, l'abbiamo detto tante volte, gli amministratori della politica hanno alcuni compiti e gli imprenditori ne hanno altri. Io credo che un paese serio, come si dice, fa squadra e ognuno come le squadre che giocano bene in campo tiene la sua posizione. Se tutti vogliono fare il portiere alla punta si finisce per fare solamente del gran casino. Allora qua dove stiamo adesso, tra un anno o tra due, non lo so, guarda il sindaco, ci sarà il waterfront di Renzo Piano. C'è bisogno che questi progetti vadano, arcino, c'è bisogno del codice della parte salti perché abbiamo tenuto fermo questo paese troppo, abbiamo soldi per investimenti, ne parlava prima credo il presidente Signorini che non riusciamo a spendere. C'è bisogno di metterli in circolo, c'è bisogno di far ripartire in questo paese meno, 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 meno regole e molte più opportunità per tutti, anche a costo di rischiare qualche cosa in più. Ma se noi non competiamo con i migliori del mondo, se noi non abbiamo strutture competitive a livello di sistema, non arriveremo mai. Genova è diventata una repubblica marinale in un posto piccolo così, ha combattuto con l'impero Ottamano, con dei colossi che avevano milioni di abitanti e richezze superiori. Perché? Perché era veloce, perché aveva la finanza che funzionava, perché aveva il know-how, perché aveva un sistema di impresa e di logistica che anche a loro funzionava. Questa è l'Italia. Questa è l'Italia. Prima abbiamo visto uscire un cargo che aveva dei contenitori, non so dove andava, che si sfilava dietro quelle vele, che sono forse le migliori vele d'Italia, senza far torto di Maria Perotti, che c'hanno gli otto là dietro, e è passata anche davanti a loro al motore. Allora, questo è il sistema paese su cui dobbiamo puntare. Con molte meno regole, molta più capacità di attrarre investimenti, molta più capacità di usare i nostri cervelli di ascensore sociale. Vale per tutti. Abbiamo tenuto bloccati investimenti pubblici, abbiamo tenuto bloccati investimenti privati, abbiamo pensato che in ogni cantiere che si aprisse in questo paese si allidassero più ladri che ingegneri. E' vero, la corruzione d'Italia è un fatto gravissimo, endemico, ma non possiamo essere corruti e ammazziati, non possiamo tenere chiuso un paese perché abbiamo paura di noi stessi. Troviamo delle regole che funzionano, lasciamo a loro fare impresa, lasciamo che la politica faccia un bel lavoro di disboscamento e facciamo in modo che chiunque faccia imprese in questo paese possa assumere persone, farle crescere, farle progredire, dare una mano al sistema delle università con i dottorati aziendali, costruire un sistema di competitività che ci porti a competere con chi? e se non è, è sempre...